Si tratta di un'opera realizzata con un contributo regionale di 85.000 euro e per i restanti 17.000 con un avanzo di bilancio comunale. Il nuovo campo in erba sintetica è stato affidato in gestione alla società sportiva Cadore 1919 attraverso una convenzione ma rimarrà comunque aperto tutti i giorni gratuitamente dalle 14 alle 17 e in estate dalle 10 alle 18. In questi orari l'accesso sarà libero per tutti. Nel resto della giornata la società sportiva Cadore potrà concederlo a privati o gruppi sportivi contribuendo in questo modo al mantenimento delle proprie attività. Il comune con questo sistema intende supportare la società ma anche creare un centro di aggregazione oltre che un servizio per lo sport. Oggi è la festa dello sport calantino, io sono contentissimo oggi, il segnale che abbiamo dato è quello di vicinanza alle associazioni ma anche a tutti i nostri ragazzini. Abbiamo voluto far tagliare il nastro Giulio Larcher perché lui rappresenta veramente l'emblema dei giovani che possono mettersi in gioco e che soprattutto portano a casa i risultati. Non è vero che i nostri giovani non valgono niente, vogliamo dargli la possibilità di divertirsi ma anche poi di avere dei giovani che si impegnano nell'amministrazione. Giulio non è un esempio. Al quadrangolare che ha accompagnato l'inaugurazione della struttura hanno preso parte una selezione di amministratori cadorini, la squadra storica della società sportiva Cadore 1919, le All Stars Cadore e i Football Friends. Al termine delle partite, grande pasta party per tutti. Lets agrega il momento. Grazie a tutti.